I colori, l'eleganza e uno stile di vita molto particolare dell'inizio novecento. Tutto questo era chiuso all'interno della mostra Art Deco, gli anni ruggenti in Italia, in essere ai musei San Domenico di Forlì. A quasi due mesi dall'apertura dell'esibizione, un gran successo di pubblico. Ma è un grande successo, abbiamo un numero molto elevato di visitatori che si attesta alla stregua delle altre grandi mostre, e soprattutto quelle che hanno avuto maggiore affluenza di pubblico. Mi sembra soprattutto che anche il gradimento, il parere del pubblico all'uscita della mostra sia all'unanimità molto favorevole all'impostazione che è stata data alla mostra e alla bellezza di questa mostra, i capolavori presenti e di come è stata allestita. Quindi siamo molto contenti. Quali sono secondo lei le opere che richiamano e attirano di più l'attenzione del pubblico? Ma in una mostra come questa un po' tutte, perché non è la mostra che hai un singolo capolavoro, ma è l'insieme di un racconto, di una narrazione, da Gioponti a Casorati, da De Chirico all'Isotta Fraschini di D'Annunzio, dalla grande architettura, alla scultura di Maestrović, Tamara Dell'Empicca in particolare attira moltissimo. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 18 giugno.